Special Waves è una nuova brand con il progetto di dare ai produttori, ai produttori e ai musicisti qualcosa nuovo, originale, customizzabile e addirittabile. Il concetto principale è di permettere ai useri di essere capiti a customizzare i loro dispositivi in modo a loro necessità. Abbiamo creatato MINE, un controllo MIDI modulare, composto da un caso che può accompagnare moduli fatti di interfacce elettroniche, in modo di offrire la flessibilità massima nella creazione di questa configurazione. L'utilizzo può arrangere i moduli individuali in posizioni orizzontali e verticali. Questi sono i 5 moduli iniziali che abbiamo già fatto. Modulare, 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 Ci sono due versioni di questo controllo modulo. La mia e la mia. La mia può accomodare fino a 64 moduli. La mia ha fino a 32 moduli. Puoi anche collegare un dispositivo all'altro e lo sviluppare come una superficie più grande. Credo che abbiamo creato un prodotto molto flessibile, expandibile e riconfigurabile. Siamo in fase di sviluppare nuovi moduli come il Trapad, il display LED, i jog wheels e molto più. Quindi, necessitiamo la vostra scelta per rendere questo sogno realizzato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.